Che vuoi? Ued, Giorgio Omanetti rivela di convivere con una nuova compagna Giorgio Omanetti è uno degli ex protagonisti del talk show Uomini e donne, il famoso gabbiano è stato per parecchio tempo al centro del gossip per via della sua relazione travagliata con la dama Gemma Galgani. All'interno di Uomini e donne però, Giorgio non è mai riuscito a trovare la compagna della sua vita, nonostante le sue svariate frequentazioni con le diverse donne che venivano a corteggiarlo. Il pubblico di Maria De Filippi è stato da sempre diviso in due nei confronti del cavaliere, molti erano quelli che lo criticavano e altri invece sostenevano il suo modo di fare e di relazionarsi con le altre dame. L'uomo ha preso parte al programma fino allo scorso anno, ma poi ha deciso di interrompere la sua avventura all'interno degli studi televisivi. Poco dopo aver lasciato la trasmissione, Giorgio aveva annunciato di essere diventato un imprenditore e di avere una nuova relazione che lo rendeva molto felice, relazione che adesso è stata resa ufficiale da una dichiarazione dello stesso Manetti dopo uno scoop del settimanale Sono. Giorgio Paparazzato insieme ad una donna. L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Video, aveva dunque già svelato di avere una compagna, ma fino ad ora il suo volto era ignoto a tutti. La rivista Sono però, ha paparazzato Manetti con la sua compagna, una donna bionda di cui però non si conosce il nome. Manetti ha infatti voluto mantenere una certa riservatezza al riguardo, dichiarando di voler salvaguardare il suo rapporto il più possibile, dato che la sua compagna non ha nulla a che vedere con il mondo televisivo. L'uomo è inoltre rivelato di essere stufo di mettere in piazza le sue relazioni sentimentali. Le dichiarazioni del gabbiano. In una precedente intervista, Giorgio aveva rivelato di avere una relazione, video, con una donna di 53 anni, bella, pionda e con gli occhi azzurri, la dama in questione pare dunque essere proprio quella con cui l'uomo è stato fotografato pochi giorni fa dai fotografi del settimanale diretto da Guido Veneziani. Manetti aveva rivelato che la signora era una sua vecchia conoscenza, ma che allora tra di loro non era ancora scoppiata la passione. Alla rivista Giorgio ha fatto sapere che lui e la sua nuova fiamma convivono e che insieme stanno molto bene e che per lui la convivenza è anche meglio del matrimonio. Il gabbiano ci ha tenuto però a precisare che parlare di amore alla sua età è una parola molto grossa. Infine, l'uomo ha rivelato che lui e la sua nuova fiamma stanno sempre insieme, nonostante lui si sposti parecchio per lavoro. A quanto pare, i due sono appena tornati da una fuga romantica a Praga. A quanto pare, i due sono appena tornati da una fuga romantica a Praga.